Ciao amici, ciao amiche, yeah, ben ritrovati su Cane di Coppia, Davide Chiara Channel parlo così perché la malica ha mal di testa e se appena addormentata non la voglio svegliare comunque video spesa da essere lunga, l'ho detto e lo ripeto adesso giriamo l'inquadratura, fermo immagine nello scontrino e via con i prodotti, una bella carrellata ma andate a spendere 215 euro e 29 centesimi allora della marca Alcisa abbiamo preso due spicchi di mortadella come potete vedere e con questa cosa ci preparai? o le polpette, no, uno le polpette e l'altro polpettone in crosta ehm, io quello che volevo sentire, polpettone in crosta poi abbiamo preso della camoscio d'oro, questi qua che servono per gli aperitivi per il capodanno questi qua sono aperi fresco, aperi fresco con, si hanno tipo delle spezie sopra che rendono buone e di questi geni abbiamo presi due, poi abbiamo preso della Citerio le sofficette prosciutto cotto che anche queste servono per Capodanno per fare il potere, il panacone gastronomico poi, poi per mio padre abbiamo preso della marca Mauri il taleggio, questo qua è il taleggio? taleggio, no, taleggio, dal 1920 poi della marca Smart abbiamo preso il formaggio Gouda Gouda? Gouda, sono 150 grammi a confezione per mio padre che ne va ghiotto abbiamo preso scontato del 40% questa sleppa di formaggio grattugiato questo qua è stato pagato 7 euro e 33 centesimi e questo è grana padano dop e non è tanto perché guardate che fettona poi abbiamo preso un panetto di burro, questo qua è burro formato contadino formato contadino, sono mezzo chilo praticamente questo qua era scontato, è per questo che abbiamo preso il suo formato qua poi abbiamo preso la pancetta a cubetti, sempre marca Smart, 200 grammi il mio padre appena la vista, uh facciamo la carbonara, ottima idea poi abbiamo preso la confezione grandi di sottilette classiche da mettere sopra agli hamburger poi della marca Bismara abbiamo preso due confezioni di prosciutto cotto a cubetti e questo qua serve per fare il pasta panna prosciutto piselli ah la classica, buona poi abbiamo preso due file di salamini questa qua è marca... è se lunga? no, marca F Saluni allora questo qua è stato pagato 2 euro e 17 centesimi mentre questo è stato pagato 2 euro e 29 centesimi questo costicchia più di questo poi abbiamo preso un casco di banane, guardate che belle che sono queste qua sono state pagate 2 euro e 42 centesimi poi della marca Negroni abbiamo preso lo zampone che questo qua, su richiesta di mio padre, un chilo questo qua me lo spacciucco tutto per lo spacciucchi si non lo so al termine della marca Quasar abbiamo preso questo qua che è un ottimo detergente per i vetri ci siamo sempre trovati bene quindi siamo al top all'OIA ah fa vedere che anche per... questo va bene anche per il televisore se non sbaglio quindi va bene per la porta, dell'armadio, c'è l'ancio per la doccia finestre e arredo in vetro non penso che sia pagato no, per il vetro no, per il televisione no si è pagato succedendo ai cdc abbiamo preso 4 vassoi di tagliata di lonza, uno pagato 1 euro e 93 uno pagato 2 euro e 01, uno pagato 1 euro e 93 e uno pagato 2 euro e 14 centesimi poi per un po' per tutti tranne per la chiara che non gli piace la carne abbastanza alta abbiamo preso la coppa senza osso pagata 3,74 euro era l'unica che costava di meno e che ce ne erano abbastanza fette nel reparto gastronomia stiamo andati a spendere... due cosi guarda stiamo andati a spendere 34 euro e 55 centesimi sono due cosine infatti guardate ha dovuto separare i sacchetti perché l'unico sacchetto non ci stava abbiamo preso il patè, il salame milano, la mozzarella di bufala proprio gigante la torta a formaggio e noci che sarebbe con il gonzola mascarpone e noci poi il patino rossa, nel vertico in cipolla e ancora nel vertico in cipolla allora della marca Lenore ci sono riuscito a primo colpo abbiamo preso ben quattro ammorbidenti uno gessomino scavato, uno lavanda e camomilla questo qua invece è ammorbidente e concentrato, oro e fiori di vaniglia della cip chiara ha preso questo qua che praticamente è uno spray è una prima volta che lo vedo è per pulire il frigorifero e il microonde strano che... cioè peccato che non c'è di sto formato per pulire il forno se la vede per il microonde penso vabbè provo vi faccio sapere però poi dice frigo e microonde, vediamo poi della marca Negroni abbiamo preso ben tre cotechini perché piacciono a tutti quanti e mezzo chilo l'uno marca Negroni, buonissimo poi con le lenticchie fresche che fa mia moglie proprio si sposano, vanno a nozze infatti non vengono con noi, 25 della marca Smart abbiamo preso le cosce di pollo che io ne vado matto quarto dato quarto, pollo quarto queste qua le vendono anche al Lidl eh sono buonissime al Lidl eh veramente consigliate le abbiamo pagate 4 euro e 86 ma mi sa che hanno lo stesso prezzo del Lidl no, sono un pochino di più però sono buonissime del Lidl qua ero un'offerta, abbiamo preso pochi eravamo doveva essere lunga ho preso le tre confezioni di carne e trita scelta per fare il ragù e poi polpette quello che si vuole scontate del 20% questa pagata 3 euro e 32 centesimi questa 3 euro e 33 centesimi questa 2 euro e 14 centesimi è sempre due cabaret due vassoi di fettine di sarebbero i pietti di pollo scontati del 30% uno pagato 3 euro e 0,8 centesimi e uno pagato 3 euro e 48 centesimi della marca Selunga questo comunque hamburger di bovino adulto abbiamo preso due confezioni questi qua costano 5 euro ma sono veramente buone perché non è la prima volta che li mangiamo prendiamo sempre questi poi della marca Citterio abbiamo preso i soldi salamini a formato bastoncino questi qua sono scontati sono veramente buoni allora Chiara per il Capodanno ha preso questi vassoi riutilizzabili sono due dorati e queste ciotoline per le olive queste sono? ah sono sei ciotoline va bene olive o qualche altra cosina patatine non so di stuzzichine tanto si possono riutilizzare quindi poi abbiamo preso l'insalata russa scontata del 20% che Chiara mi sa che dall'ultimo video spesa che ha fatto l'hanno fatto vedete quando l'ha fatta cioè guardate qua veramente guardate cosa hanno fatto ha capito l'essere lunga di sigillare tutto che bello appena l'ha vista che era così l'ha presa subito si poi abbiamo preso della grangallo questo qua il risotto che va bene per tutto e questo qua è buono anche da mangiare noi lo mangeremo bianco poi abbiamo poi della marca parmareggio abbiamo preso ben quattro confezioni di grattugiato fresco ripeto marca parmareggio parmigiano reggiano parmigiano reggiano sono dovrebbero essere 100 grammi aspettate si 100 grammi a confezione allora dalla marca Morato abbiamo preso questo pane qua che è le spuntinelle per fare appunto come si chiamano le tartine le tartine sempre per capodanno si poi abbiamo preso il nostro amico smacchiatutto e poi per mia madre della sunsilk abbiamo preso lo shampoo colore il colore vibrante della marca Giraffa abbiamo preso un chilo di patate queste qua sono precotte basta metterle nel forno e sono veramente buone queste qua e non ci mettono neanche tanto tempo a cuocere allora sempre della marca Citterio delle sofficette abbiamo preso due confezioni di salami salami questo qua è salami Milano penso 60 grammi 60 grammi di confezione sempre per capodanno le tartine per il paletto di gastronomica ecco non mi veniva poi abbiamo preso sono due confezioni di finocchi che profumo che non sono fessi uno ho pagato 78 centesimi l'altro ho pagato 86 centesimi che questi qua li farà gratinati poi non so ha preso si chiama dote si chiama dote questa mi serve per fare le lenticchie e tutto il resto? no questo perché c'è il sedano è molto buono da mangiare con l'olio e il sale una cipolla perzemolo però si chiama dote è un mix si della marca Alfano abbiamo preso le nocciole sono 500 grammi e queste qua sono le noci sempre marca Alfano e anche questa è mezzo per mia madre che gli piacciono tanto gli avevamo preso i datteri tunisini poi abbiamo preso buoni questi questi sono i perini sono mini perini mini perini questi qua sono molto buoni e questi non mi ricordo il prezzo sono 98 non ho spetta poi abbiamo preso le pere Williams pagate 2 euro e 78 sono dure ma basta lasciarle fuori non proprio dure si ammorbidiscono poi abbiamo preso una rete da 2 fili di clementine le famose clementine che le mangia quasi tutte chiare queste sono molto buone abbiamo preso 2 confezioni di zucchine una pagata 1 euro e 96 e l'altra pagata 1 euro e 99 poi della marca abbiamo preso questa bella ananas che chi la desiderava la tanto bella ticinina che c'ho la prezza apposta per tagliare l'anas guardate mi devo fare i capelli così la solita confezione da un chilo di talote questi qua sono buonissimi poi della marca Cetera abbiamo preso i Wuster Woi questi qua sono piccolini sono per aperitivo ma guarda qua c'è una ah è il prezzo dell'anas si è attaccato ai Wuster 1 euro e 02 l'ananas l'ananas pagata 1 euro e 02 che si era attaccato ai Wuster è poco eh poi abbiamo preso della marca Smart 150 grammi a confezione l'enmental e questo qua non so cosa deve fare chi non mi ricordo questo qua ne avevamo fatto vedere uno questo qua sempre camoche d'oro aperitivo 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 però questi qua sono al salmone però questi non mi piacciono però questi non mi piacciono il caviano mi piace la succerina l'uova di lombo non so che cosa sia non spero venere non lo so se è pepe non lo so cosa è sta roba della marca AIA abbiamo preso i Wuster stavolta ne abbiamo presi solo due 150 grammi a confezione questi qua il formaggio che sono veramente buoni poi a Michuicue Michuicue come ultimo prodotto del video spese S lunga abbiamo preso quattro confezioni una confezione intera che ci sono quattro bottiglie da un litro e 35 erano scontate anche queste per capodanno bene io spero che il video fatto da S lunga vi sia piaciuto vi è ben trattenuto e abbiate preso spunto dai prodotti che vi abbiamo fatto vedere io come sempre vi auguro un buon sabato sera e mi raccomando iscrivetevi al canale di Copeta di Chiara Channel al canale Chiara D'Alessandro al canale Chiara D'Alessandro e ASMR io vi auguro una buona serata un bacione il solito IA e ciao